I maggiori esponenti della segreteria nazionale, regionale e provinciale della CIS e del settore funzione pubblica sono giunti a Caltagirone nella sede del sindacato sia per affrontare una serie di argomentazioni legate al pubblico impiego sia per rilanciare l'apertura di una nuova sede sul territorio. Abbiamo aperto una sede, una sede per ripartire dal territorio, per valorizzare al meglio il territorio perché in realtà i problemi non sono solo quelli di ampia dimensione ma i problemi partono veramente dal piccolo, dalle piccole città, dal calatino, dai piccoli territori. Questa è una prima esperienza sperimentale che speriamo veramente si tradurrà in qualcosa di costruttivo per il futuro, per questa terra e per soprattutto anche una nuova classe dirigente giovane all'interno del sindacato che possa portare dei benefici. Una delle questioni emergenze che lo stato attuale sta riguardando la Sicilia è proprio quella dell'esercito dei 22.000 precari in forza agli enti locali, il segretario generale della CIS e la Funzione Pubblica di Catania Armando Cocco. Spende dal sindaco Enzo Bianco che oltre ad essere il sindaco di Catania è anche il presidente nazionale dei sindaci di tutta Italia e ci ha comunicato che ho incontrato personalmente il ministro Alfano ricevendo assicurazione che oltre alla proroga dei precari dei comuni virtuosi per un anno, nel decreto mille proroghe sarà normata nell'emendamento per far sì che anche i precari dei comuni dissesto, predissesto e piano di rientro abbiano lo stesso trattamento. Il nodo precari in Sicilia e le altre tematiche legate al lavoro nelle pubbliche amministrazioni sono state affrontate anche dal segretario generale nazionale della CIS e la Funzione Pubblica Giovanni Faverin. Si ha poca serietà nella programmazione e nell'interesse e in questo la Sicilia fa il paio col governo nazionale perché stiamo parlando di un impiego alla comunità, un impiego pubblico che ha perso 300.000 persone a livello nazionale, non ha rinnovato il contratto e quindi sembra che anche se abbiamo giovani governatori a livello nazionale, la coerenza tra i bisogni della comunità e delle persone, la professionalità dei tanti precari, ma i bisogni della comunità di svilupparsi trovano dei discreti bugiardi sul livello regionale come sul livello nazionale. Le chiacchiere sono una cosa, i fatti e i bisogni delle persone sono sicuramente un'altra. Quali sarebbero le emergenze che la CIS le porterebbe subito sul tavolo del governo? Innanzitutto quella di inserire molti giovani, giovani che hanno studiato, quindi giovani precari ma anche giovani che hanno una professionalità. Perché non fare un apprendistato professionalizzante a tanti giovani uomini e donne laureate che potrebbero portare, perché sono nativi digitali, più competenza e innovazione anche nell'arco di 1, 2, 3 anni? Perché concedere sgravi solo alle imprese private e non fare in modo che anche il pubblico possa avere nuove energie e nuove competenze? Questo è un programma di cambiamento vero, l'abbiamo proposto al Ministro Madia, fa tante chiacchiere, è giovane ma mi pare si disinteressi proprio delle persone giovani.